Non intendo mullare di un passo perché la battaglia che deve fare questo Paese è di cui ha profondamente bisogno se vuole salvarsi, perché non è mica obbligatorio che uno si debba salvare, perché questo Paese mi sembra molto chiaramente innamorato della propria malattia, ma al di là di questo, questo Paese ha bisogno di una profonda rivoluzione liberale e sussidiare se si vuole salvare. Questo non lo incarna certamente la sinistra, non l'ha incarnato in maniera perfetta assolutamente nemmeno la destra quando ha governato per quelle questioni di alleanze che hanno reso necessario troppe mediazioni in questo senso, ma adesso le condizioni del Paese richiedono una rivoluzione, una rivoluzione liberale e sussidaria che solamente il centro-destra può fare, cioè coloro che pensano che la libertà viene prima di tutto. Conno o senza Berlusconi? Noi vorremmo farlo assolutamente con Berlusconi perché mi sembra che sia la persona che traina in termini elettorali in maniera incredibile, ma se voi pensate che questa sentenza possa incidere sui movimenti elettorali, mi sembra ingenuo pensarlo, per il semplice fatto che sono 20 anni che Berlusconi viene coinvolto in vicende giudiziarie, alle quali molta parte degli italiani non credono, vedono che ci sia una sorta di persecuzione. Lei consideri solamente questo fatto che non esiste un cittadino italiano che abbia avuto tre gradi di giudizio in un solo anno? Cioè la giustizia italiana è nota, anche quella penale per i tempi lunghissimi, guardate un po', per Berlusconi c'è stato un triplo grado di giudizio, tre gradi di giudizio in un solo anno. Solo gli ingegni potevano pensare che ci sarebbe stata una soluzione.